L'ex star dell'ultimo GF si è fidanzato. Una indiscrezione che fa tramare tutti i loro fan. Sta con la famosa giornalista Il mondo dello spettacolo durante l'estate si fa più fitto. Questo periodo dell'anno preannuncia una serie di novità che troveremo a settembre Infatti, si è diffusa una indiscrezione riguardo una delle ex star dell'ultimo Grande Fratello Si dice che abbia trovato l'amore. E non con una persona qualunque, ma con una famosissima giornalista televisiva Questa notizia ha rapidamente catturato l'attenzione di fan e media, diventando uno degli argomenti più discussi del momento Scopriamo di chi si tratta. L'ex star dell'ultimo GF non è più single. Sta con una famosissima giornalista, di chi si tratta? L'indiscrezione è stata lanciata dalla popolare esperta di gossip di Yanira Marzano. Conosciuta per le sue rivelazioni che sono spesso azzeccate Secondo Marzano, l'ex concorrente del Grande Fratello, il cui nome non è stato ancora ufficialmente confermato, avrebbe iniziato una frequentazione con una bellissima e rinomata giornalista di Sky Negli ultimi giorni, gli ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello sono stati al centro di numerose chiacchiere Tra le notizie che hanno scosso il pubblico, c'è la fine dell'amicizia tra Beatrice Luzzi e Simona Tagli Le due, che sembravano molto affiatate durante il reality, hanno recentemente interrotto ogni rapporto Con Simona che ha espresso pubblicamente la sua delusione tramite una lettera Oltre alle amicizie infrante, anche le storie d'amore nate sotto i riflettori del Grande Fratello hanno avuto il loro bel da fare La rottura tra Sergio Dottavi e Greta Rossetti ha fatto molto parlare di sé Il primo, visibilmente amareggiato, ha dichiarato di aver creduto fortemente nella loro relazione, nonostante i dubbi e i pregiudizi che circondavano il comportamento di Greta Il post di Dejanira non ha specificato quale edizione del Grande Fratello sia coinvolta, lasciando spazio a diverse ipotesi Se ci si riferisce all'ultima edizione, i nomi più quotati sarebbero quelli di Alessio Falsone, Giuseppe Garibaldi o Sergio Dottavi Qualunque sia l'identità dell'ex concorrente, una cosa è certa. Il nuovo legame con la famosa giornalista promette di essere uno dei gossip più caldi dell'estate La relazione tra un ex concorrente del Grande Fratello e una giornalista di Sky suscita grande interesse tra il pubblico Da sempre, le storie d'amore tra personaggi noti attirano l'attenzione dei seguaci. E questa coppia non farà eccezione Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti più accurati rispetto a questa vicenda amorosa e intrigante Grazie 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 Grazie